Declinarsi con fantasia, quindi imparare ma poi sapersi adattare, capire che il mondo è un mondo in movimento e che uno dei messaggi anche della comunità europea è la mobilità dei giovani, quindi capire che il tuo mondo è qui ma può essere anche a 2000 km di distanza. Io faccio la differenza perché ci credo, perché credo tantissimo nel mio lavoro, credo nelle altre persone, sono una persona positiva e credo nella bellezza, non so come dire, e per me questo fa la differenza. Io ho scelto Make the Difference perché con il lavoro che faccio condivido tantissime cose con Make the Difference.